dell'Unione Europea che ha salari più bassi rispetto al 1990, quando per intenderci noi non avevamo neanche i telefonini, mentre in altre nazioni, cito la Germania, cito la Francia, ci sono stati incrementi anche del 30%. Significa che c'è un'emergenza, come dice il segretario olandini? Sì. Significa che le ricette utilizzate finora hanno funzionato? Temo di no. Significa che bisogna immaginare una strada nuova? Io penso di sì. La strada che non è mai stata intrapresa finora è quella di puntare tutto sulla crescita economica. Perché vedete, noi veniamo da un mondo nel quale spesso ci si è detto che la povertà si poteva abolire con un decreto, che il lavoro si poteva creare per decreto. Oggi si dice che per legge si possono garantire salari adeguati. Ma se fosse così, allora dovrebbe essere lo Stato a creare ricchezza. Mentre le cose non stanno così. E purtroppo noi lo abbiamo visto, perché nonostante i decreti la povertà non è stata abolita ed anzi è aumentata. La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori. Quello che compete allo Stato è immaginare regole giuste e redistribuire la parte di ricchezza che gli compete. E se questa è la verità, allora la sfida è mettere quelle aziende e quei lavoratori nella condizione migliore per creare una ricchezza che inevitabilmente si riverbererà su tutti. Per favorire la crescita occupazionale per aumentare le retribuzioni. Io credo che la base sia far ripartire l'economia, sostenere il sistema produttivo, restituire all'Italia anche un po' di sana fiducia in sé stessa, liberare le sue energie migliori. È esattamente la visione che sta ad esempio alla base della riforma fiscale che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato con una legge delega che a mio avviso è stata un po' frettolosamente bocciata da alcuni. La strutturale delle politiche in favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione, contro la loro solitudine. Il nostro obiettivo è stata approvata in uno dei durami del Parlamento senza alcun voto contrario. Il nostro obiettivo è approvarla definitivamente entro il 31 marzo. Sono d'accordo sul fatto che ovviamente vada accompagnata da risorse adeguate. C'è poi il tema della natalità, i cui dati ci raccontano che noi stiamo affrontando non un inverno demografico, noi stiamo affrontando una glaciazione demografica. Io penso che per affrontare questo problema, che è il nostro pil demografico, sono gli anni di futuro che abbiamo davanti, che è un tema di welfare come voi sapete benissimo, perché con una popolazione che continua a invenchiare noi rischiamo di avere sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano per mantenerle. Io penso che la sfida sia quella di un piano imponente, economico ma anche culturale, per rilanciare la centralità della famiglia che è elemento fondamentale nella creazione di ogni società, partendo proprio dal sostegno al lavoro femminile, dall'incentivo alle imprese che assumono donne, che assumono neomamme, dal sostegno agli strumenti di conciliazione dei tempi casa-lavoro e da una tassazione che torni a tenere conto della composizione del nucleo familiare. Così come credo che vada data una risposta forte all'aspirazione delle giovani coppie a mettere su famiglia, anche aiutandole a acquistare casa. Anche qui sulla legge di bilancio noi abbiamo voluto dare alcuni primi segnali. Penso all'aumento del 50% dell'assegno unico per i figli per il primo anno e per i primi tre anni per le famiglie numerose. Penso a un primo intervento che abbiamo realizzato sul tema del congetto parentale. Penso alla scelta di rinnovare gli interventi agevolativi in favore delle coppie per l'acquisto della prima casa. Penso anche alla scelta che abbiamo fatto. Non so perché nessuno ci avesse pensato prima di prevedere il diritto per chiunque abbia un mutuo a tasso variabile di convertirlo in mutuo a tasso fisso. C'è certo ancora moltissimo da fare. Ma su questo la nostra concentrazione massima, come lo è in tema di contrasto alla violenza contro le donne, anche altro tema che è stato richiamato dal segretario Landini. Una piaga che è molto, molto lontana purtroppo dall'essere sconfitta. Sono temi sui quali le istituzioni, la politica e il sindacato dovrebbero fare gioco di squadra. Io sono pronta, lo ribadisco, a fare la mia parte. Su molte cose, su alcune cose anzi, sarà più facile trovare condivisione. Su molte altre sarà, immagino, parecchio difficile. Ma questo non vuol dire che non si debba tentare. All'esito di un confronto con i ministri, ieri io ho contato oltre 20 incontri del Governo con i sindacati in 20 settimane di Governo. A differenza del segretario Landini, io non considero finto questo confronto. Altrimenti non avrei alcuna ragione di perderci tempo. Lo considero produttivo, lo considero produttivo anche quando non siamo d'accordo. Banalmente perché, come dicevo in apertura, a volte saremo d'accordo, riusciremo a fare cose insieme, a volte non saremo d'accordo. ma io grazie